Antonio Bernini, sindaco di Vidracco, una giornata importante perché finalmente si dà a una serie di lavori, a un lavoro importante sulla SP61 che finalmente diventerà totalmente sicura. Sì, finalmente diventerà totalmente sicura, sono lavori attesi da tantissimo tempo ma da almeno dieci anni per quella che è la mia esperienza di amministratore perché negli ultimi dieci anni appunto si è svolto questo grosso lavoro di sbancamento del fronte roccioso che vedete alle mie spalle e che ha creato lo spazio per l'allargamento della strada. È stato un lavoro complesso di concertazione con la regione, la polizia mineraria, la città metropolitana, la GTT per i trasporti, i comuni della valle che ringrazio tutti per il sostegno a quest'opera pubblica che ovviamente non riguarda solo il mio comune per creare finalmente una strada sicura. Qui il tratto interessato sono 500 metri ma i più pericolosi, i più strategici, i più fondamentali per dare alla Valchiusella un accesso in sicurezza, comodo, a norma e che sia invitante per venire nel nostro territorio e che sia sicuro per chi ci vive. Sicuramente appunto adesso iniziano i lavori, i lavori che porteranno alla chiusura per un certo periodo dalla strada. La strada sarà chiusa esattamente dal lunedì prossimo 26 febbraio fino al 26 aprile con ordinanza della città metropolitana, speriamo la ditta impieghi di meno. La conclusione delle opere è prevista per il 23 giugno, anche qui auspichiamo magari che la ditta riesca a ottimizzare però non sono le settimane che fanno la differenza. Ci abbiamo aspettato 10 anni, abbiamo lavorato 10 anni quindi arrivare all'inizio dell'estate ci sembra quanto mai appropriato, utile e importante appunto per tutti. Ricordiamo quindi che per chi volesse, chi deve naturalmente venire a Valchiusella, qual è la strada da seguire? Allora non ci sono dubbi, la strada da seguire è la SP64, cioè l'altra strada provinciale che passa sull'altro lato del lago di Vidraco e Vistrorio. Quindi salendo da Strambinello, passando appunto vicino a Vistrorio, raggiungendo Vidraco oppure la Valchiusella in questo modo. Sconsiglio altri accessi come la via Vespia che è una via interna al territorio del nostro comune ma che non è in grado di sostenere un aumento del carico di traffico. Quindi la SP64 è sicuramente la strada importante da percorrere, da seguire perché è sicura, perché è larga sufficienza, è in grado appunto di gestire anche un aumento del carico di traffico. Ci sono dopo i ringraziamenti e sono tantissimi, i ringraziamenti vanno agli amministratori della Valchiusella, al comune di Baldissero, di Castellamonte, della Pedanea che sono i comuni che hanno sostenuto perché riguarda anche loro questo tipo di opera pubblica. Naturalmente i cittadini per la loro pazienza in questo periodo. La nuova Cives che è quella che ha permesso lo sbancamento di quest'opera. Senza il privato sarebbe stata un'opera pubblica così onerosa che non si sarebbe potuto fare. Naturalmente la città metropolitana che è la responsabile della strada e dell'esecuzione dell'opera. La regione Piemonte che ha messo un contributo importante per rendere possibile quest'opera. Naturalmente GTT che compensa la chiusura della strada con corse, con il servizio Pullman che riescano comunque a garantire ai cittadini di limitare il più possibile i disagi. Quindi ringraziamenti tanti però siamo alla fine e speriamo di avere una bella inaugurazione in questo caso. Come vedete il traffico in questo momento come in altri momenti è tale da rendere quest'opera decisamente fondamentale per tutti. Siamo con Jacopo Suppo, vice sindaco di città metropolitana. La Val Chiusella finalmente avrà un lavoro importante, tanto atteso l'ASP61 che diventa finalmente più sicura. Sì, è un lavoro davvero tanto atteso. Parlavo prima con i sindaci del territorio, ero venuto qua un anno e mezzo fa, il sindaco di Vidracco mi aveva proprio espresso quasi in maniera sconsolata il desiderio di vedere questa opera finalmente realizzata. Un'opera attesa da almeno dieci anni. In questi ultimi due anni siamo riusciti a dare concretezza a questo progetto con un finanziamento di un milione di euro che consentirà appunto l'allargamento della strada, dall'ampliamento della sede stradale e un aumento di sicurezza per tutta la viabilità di accesso della Val Chiusella. In questi giorni tra l'altro avete lavorato e state lavorando molto su altre criticità del territorio canavesano, la struttura che porta in Val Soana, il Ponte Preti. Quindi significa che città metropolitana ha un occhio di riguardo per il canavese. Città metropolitana ha un occhio di riguardo per il canavese e anche per gli altri territori di cui si deve occupare. Siamo fortunati perché dopo una fase davvero un po' complicata per il nostro ente siamo riusciti a ridarci un assetto organizzativo interno molto solido e di conseguenza intercettare delle risorse che finalmente riusciamo a distribuire sul territorio. Partiranno i lavori in Val Soana per il Lotto 3 per l'allargamento della strada. Siamo stati a Castellamonti in comune con i sindaci di Strambinello e di Baldissero Canavese per presentare il progetto per la costruzione del nuovo Ponte Preti che dobbiamo cantierizzare entro il 2025. Questa è un'opera, vedete la Draga che sta lavorando, che è già attiva, da lunedì si chiuderà la strada. Insomma tante cose, tanti investimenti, tanti interventi e insomma tanta soddisfazione perché il lavoro è sempre molto, la fatica è sempre tanta, le difficoltà burocratiche sono infinite, sono difficili anche da far comprendere i cittadini ma quando si vedono i risultati ecco tutto quello che è passato diventa un ricordo e siamo contenti di inaugurare queste opere così attese e così sentite. Ci tengo poi in particolar modo a ringraziare la Cives, la società che gestisce la miniera, la cava di estrazione mineraria perché davvero si è resa disponibile, ha compreso l'importanza di questa iniziativa, di questo intervento e ha sbancato una fetta considerevole della montagna, del suo territorio di competenza per rendere possibile questo intervento. Quando il pubblico e il privato collaborano per raggiungere un obiettivo comune si riesce a fare una sinergia davvero importante che insomma consente a tutti quanti di poter raggiungere questi obiettivi. Pasquale Mazza qua nel ruolo di consigliere di Città Metropolitana si inizia finalmente un lavoro atteso, tanti anni, per una SP61 che finalmente sarà pienamente sicura. Assolutamente sì, ci sono stati anni di lavorazioni, è stato asportato un bel pezzo di montagna quindi senza quello evidentemente non si sarebbero potute realizzare le opere che adesso andiamo a realizzare però alla fine abbiamo fatto quadrare tutto e siamo riusciti finalmente a partire con i lavori. Lavori che appunto Città Metropolitana sta portando avanti sul territorio non solo in Val Chiuselle. Assolutamente no, di fatti l'altro giorno abbiamo aperto le buste per la strettoia dopo Ponte Canavese per andare verso la Val Soana quindi a breve avremo il nome dell'impresa che sia giudicata i lavori anche da quella parte e anche lì andremo a mettere a norma e ad allargare un altro pezzo di strada che voglio dire per il territorio canavesano assieme a questo, assieme al Ponte Preti che come ho detto prima abbiamo presentato poco fa ai sindaci porterà anche a un traffico meno pesante e quindi anche dal punto di vista commerciale e per le aziende e turistico sicuramente dei benefici. Proprio perché il nostro territorio ha bisogno di una viabilità che sia sicura e che permetta anche al turismo di svilupparsi attraverso una fruizione più facile nel weekend ma non solo. Esattamente, proprio così quindi l'intenzione era quella sviluppare a 360 gradi il territorio, turismo, produzione, traffico anche per i locali quindi tutti contenti. Grazie.